Da sempre la cultura, l'arte e lo spettacolo sono i difensori della memoria di una nazione. Gli anniversari vengono celebrati e tramandati attraverso la cultura e attraverso lo spettacolo. Ma la cultura e lo spettacolo non gli diamo mai il giusto valore. Sono i primi a essere martoriati, i primi a essere dimenticati, i primi a non essere economicamente considerati. I valori li trasmettiamo attraverso la cultura, ma questi valori non diamo il giusto valore. Forse arriveranno i giorni nei quali un medico ci prescriverà di andare in teatro o di andare a vedere una mostra o di leggere un libro. Non è fantascienza. In Scandinavia fanno questo da tanto tempo, da decenni, sui problemi di depressione. Anche gli Stati Uniti e l'Inghilterra lo stanno facendo. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un documento in cui si parla della importanza della cultura per la salute. La cultura è un bene primario, come il pane degli alimenti, la cultura è il pane della salute sociale. Di ogni nazione, città e comunità. Adesso vi faccio una domanda. Ognuno si risponda per sé. Prendersi cura, e mi riallaccio a quello che hanno appena detto, le belle parole che hanno detto il sindaco e l'assessore Bianconcini. Prendersi cura della salute intellettiva delle persone. È un costo o è un investimento? Ognuno di voi risponde a questa domanda. La risposta definisce esattamente chi siamo. Ogni giorno abbiamo la dimostrazione di come la dilettrica costruttiva, le argomentazioni nel merito. Siano state ormai annullate dalla marea dell'insulto social, del sta a vedere che non posso dire la mia, del denunciare una cosa su Facebook anziché andare alla polizia o gli uffici proposti, del non capire ma voler ugualmente riversare la propria pochezza su qualsiasi argomento. Continuiamo a parlare di tutto ciò che non sappiamo. Ecco perché le notizie false si diffondono sei volte più velocemente di quelle vere. Mio nonno era del 1910, era un pescatore, aveva fatto la sesta elementare, qualcosa di raro per quei tempi. Da lui ho reeditato la commozione facile e una frase che porto sempre con me che dicevano i quattro nipoti. Se non sai di che cosa si parla, fai le sole tre cose possibili. Tasi, scolta e impara. Questa era la cultura contadina. I teatri cinema sono servizi per le persone, servizi fondamentali. Ancora di più in momenti grigi di depressione e isolamento come questi, ma i teatri cinema sono stati chiusi. Gli assembramenti di cui avevamo timore erano altrove, sempre altrove, quasi completamente altrove. in altri luoghi, ma erano permessi. È paradossale che le occasioni di serenità e di miglioramento intellettivo non fossero permesse. Bologna è la città che ha scritto il libro Paradiso, il Liber Paradisus, la prima città al mondo ad abolire la schiavitù, 600 anni prima degli Stati Uniti. Bologna ha la università più antica del mondo. Vedete che cosa significa la cultura? Tutto questo fa parte della nostra cultura. Perché è importante la cultura? Nelle magnifiche vesti nelle quali si presenta. Perché se non sai cosa è successo alle fosse ardeatine, non sai chi sei. Se non sai cosa significa il 2 agosto 1980, non sai chi sei. Se non sai cosa significa il 25 aprile, il 2 giugno, il 1 maggio, non sai chi sei. Sei solo un involucro che contiene un vuoto. I teatri, i luoghi culturali sono palestre dove facciamo i muscoli al cervello. I luoghi della cultura sono le fucine dove si costruiscono le identità civiche. Bisogna continuare a rivolgersi agli spottatori come voi, a costruirne sempre di nuovi e a far capire l'importanza del muoversi nell'economia della socialità, dell'arte e della cultura, dell'esperienza dell'altro. Quella che fa dire a chi ha il frigorifero pieno, dai stasera andiamo fuori a mangiare. Abbiamo iniziato parlando di fatti, mi scuso se mi sono dilungato, ma veramente ce n'era bisogno. E voglio chiudere parlando di un fatto. Il fatto che il primo vaccinato inglese al Covid sia stato un ottantenne che si chiamava William Shakespeare. Un fatto occasionale, ma non privo di fascino sicuramente. Come se il caso avesse scelto la poesia, il teatro e la sua forza. Il mondo del teatro è uscito a pezzi da questa pandemia. E leggere del signor William Shakespeare vaccinato contro il Covid mi ha fatto pensare subito alle pletee deserte, agli spettacoli soppressi, ai tecnici meravigliosi come i nostri che si sono dovuti inventare qualsiasi cosa per sbarcare il lunario. Mi ha fatto pensare alle locandine appese a scolorire. Ecco, l'arte è un collante potentissimo. Una delle ultime forme di scala mobile sociale in un paese come l'Italia che ha abbiurato la coltivazione dei sogni, ha abbandonato la cultura e si è affezionato contribuendone a un'idea di decrescita. Ti mostriamo che abbiamo bisogno di persone che ci facciano sentire che il mondo vibra ancora. Il teatro, l'arte, la danza, il cinema, la poesia, la letteratura, ogni espressione di questo tipo è un mattone che va a costruire quella necessaria struttura che è la cultura umana. Si riempiano di nuovo i teatri, i cinema. Si diano montagne di risorse, montagne di voci e di partecipazioni alla cultura viva, fatta di spettatori paganti perché c'è in ballo un settore stremato, annichilito, agonizzante. Se pensate o avete pensato alla cultura come qualcosa di superfluo o perfino inutile, mi dolgo per voi e per la vostra miserrima ed infima vita. Soffrite di un malessere dell'anima che nessuno potrà mai curare. ognuno si qualifica per ciò in cui crede. È arrivato il momento di esaminare con precisione quali sono i valori in cui crediamo. Siamo stati isole, abbiamo bisogno di tornare a essere arcipelaghi per costruire insieme anziché distruggere da soli. Viva il teatro, viva l'arte, viva la cultura. Grazie, grazie Alessandro. E ora raccontaci, raccontiamo insieme cosa vedranno i nostri spettatori in questa stagione. Mi sto godendo l'applauso. Bravo. Grazie.